Com'è la vita per bambini, giovani e anziani nei nostri territori? Generalmente buona, ma non mancano le criticità. A evidenziarlo la nuova indagine della Sole 24 Ore sul benessere generazionale. L'Ecco non è una provincia per giovani, è 65esima in Italia su 107, ma lo è per i bambini, 26esima posizione, e per gli anziani, 35esima. Quella di Sondrio è un vero paradiso per gli anziani, è settima in Italia, ma anche per i giovani, 16esima posizione, più bassa la vivibilità per i bambini, 49esimo posto. Nel dettaglio, per quanto riguarda la qualità della vita dei bambini, l'Ecco spicca per indice di sportività e basso numero di delitti denunciati a danno di minori, Sondrio svetta invece per spazio abitativo a disposizione di ogni bambino. Quanto alle note negative, all'Ecco ci sono gli asili nido con le rette tra le più care d'Italia. Sondrio invece è una delle province con meno pediatri del paese. Per quanto riguarda i giovani tra i 18 e i 35 anni, entrambe le province vantano un basso tasso di disoccupazione. Nelle chiese si registra un ridotto gap degli affitti tra centro e periferia. A Sondrio invece un elevato numero di amministratori comunali con meno di 40 anni e tante aree sportive all'aperto. Ci sono però meno laureati rispetto alla media nazionale, mentre la provincia all'Ariana conta un basso numero di bar e discoteche oltre che di concerti. Infine gli indicatori che riguardano gli anziani. L'Ecco primeggia per importo medio delle pensioni di vecchiaia e basso inquinamento acustico. Sondrio è al top invece per biblioteche, orti urbani e numero di infermieri. Entrambi i territori si distinguono per un elevato consumo di farmaci per malattie croniche. In conclusione una nota demografica. Sia a Lecco che a Sondrio continuano ad esserci più bambini che bisnonni, ovvero under 10 rispetto ad over 80. In molte province non è già più così, mentre sono già circa un quarto in meno gli under 35 rispetto agli over 65.